Oggi abbiamo inaugurato la mostra Le Tecnologie Emergenti sfidano attraverso le visioni prodotti con l'intelligenza artificiale il tempo della policrisi e collocano i nostri edifici ibridi, le nostre città della transizione, dispositivi rigenerativi nell'atmosfera che è il contesto in cui abbiamo prodotto negli ultimi 50 anni i maggiori impatti e che quindi in qualche misura sfidano la neutralità climatica e la neutralità carbonica. È un'esperienza svolta con i laboratori AbitaLab, di cui dirigo le attività, insieme agli studenti dell'atelier 2022, otto progetti, otto proposte di edifici rigenerativi, di città della transizione, di edifici ibridi che in qualche misura accettano questa sfida e si rivolgono all'intelligenza artificiale con il filtro dei dati, delle informazioni, della conoscenza delle risorse che provengono da uno studio effettuato durante tutto l'anno, durante tutto l'anno del laboratorio di tesi e che continuerà nelle prossime settimane per la produzione appunto della ricerca della tesi di laurea. È un tema di ricerca, è un tema importante, è un tema in cui il laboratorio lavora da anni. Noi l'abbiamo affrontato con gli studenti producendo non solo queste immagini, ma anche lavorando su quelle che sono le forme generative di questi edifici e quindi lavorando anche con la stampa 3D e quindi oggi è stato un momento molto importante di riflessione che apriamo a tutta la nostra scuola di architettura, ma anche alla città a chi volesse venire a confrontarsi con noi su questi temi.